Ciao, io sono Elia Calò, ben ritrovato al giardino sotto il naso, ci troviamo qui nel barmita e siamo pronti per un nuovo interessante episodio. In questo video ti parlerò di come utilizzare, quindi montare, smontare e ricaricare un sifone per la soda. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di amaro satiro, liquore pineta e vermouth mita, ma ora andiamo a scoprire come utilizzare il nostro sifone. Bene, prima di cominciare, mi raccomando, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Bene, vuoi vedere adesso la faccia di chi non è ancora proprio 100% esperto del bar e magari il capobar gli ha preparato la soda e lui la finisce e non sa come fare, non l'ha mai ricaricato, la faccia è così, fa così, vede che non è ci fa così, e ha degli americani o diciamo americani inteso come drink o degli analcolici fatti con la soda e non sa come fare, quindi disperazione. E già mi immagino insomma che qualcuno di voi, probabilmente tu, stai già lì con, sei andato nello sgambuzzino del bar su internet su come smontare e come ricaricare il sifone per la soda. Comunque scherzi a parte, ho deciso di fare questo video perché questo qui è una tecnica di homemade di livello leggermente più, non proprio avanzato, ma comunque già chi pratica il bar di solito queste cose le sa fare, però magari tu ti sei trovato in questo momento e vuoi imparare. Sto cercando questo qui che è il classico sostituto monouso del sifone per la soda che è questo qui, quindi è la stessa cosa di questo qui, però è monouso. In realtà questo qui è più comodo ed è anche più, cioè è più comodo, è più carino da vedere, insomma, poi è una cosa che fai tu, quindi è una cosa molto, tra l'altro molto semplice. Quindi prima cosa da capire è che tipo di sifone scegliere, qualora dovessi acquistarlo, insomma. Ti racconto un po' quello che faccio io e quello che utilizzo io. Le marche, tra l'altro io non sponsorizzo nessuna brand in particolare perché non mi interessa, però le due marche principali sono la Easy e la Ico, che in questo caso è questa qui. La differenza fra Easy e Ico è che la Easy è diciamo il materiale nel quale è composto è leggermente migliore, anche la componente diciamo di sopra è leggermente migliore e ha un flusso più regolare, più graduale, ecco diciamo così, più gentile. In questo caso però ha un costo di circa 120 euro a sifone. In questo caso è sempre un sifone per la soda e della Ico e costa circa 40 euro che per, insomma, per iniziare, per fare dei piccoli test va più che bene, insomma. Cos'altro c'è da dire? Su questo, questa è la marca, questo è un sifone da un litro, ci sono chiaramente diversi sifoni, c'è il sifone per la panna, il sifone per la soda, insomma, poi se entri in una cucina, diciamo, professionale, sicuramente loro ne utilizzano per vari scopi. E chiaramente ogni sifone ha un'impostazione diversa e chiaramente anche delle ricariche, che adesso di cui ti parlerò, sono diverse. Ma veniamo a noi, ammettiamo che la tua soda è terminata, quindi prima cosa da accertarti è che non ci sia del gas residuo all'interno. quindi assicurati di metterti in un lavandino, questo è vuoto sicuro, è sicuro di metterti nel lavandino e di farla sfiatare tutta quanta. Quindi è un suono che fa tipo così. Quando vedi che non esce più niente, quindi tieni premuto, quando vedi che non esce più niente, siamo pronti per smontarlo. Lo smontaggio, insomma, è veramente molto semplice, quindi semplicemente vai a svitare la parte sottostante, e qui puoi vedere che c'è la parte della pistola, diciamo così, dove fuoriesce il liquido, poi c'è una cannuccia con un gommino che va ad aderire qui, e poi qui c'è la parte un po', come dicono gli inglesi, un po' tricky. Che cosa significa? Che questa parte qui serve per, a volte, chi non è esperto, diciamo così, non riesce a toglierla. Ti farò vedere adesso come fare. In realtà vanno per sciacquarlo e una parte del liquido rimane all'interno, quindi nella scatola c'è sempre questo attrezzo qui, che sembra tipo una, non so come definirlo, una pinza, una forbice, non lo so a cosa ti assomiglia. A me sembra veramente un fermaglio per i capelli. E basta semplicemente schiacciare leggermente per stringerla, infilarla all'interno, così, si aggancia perché si riapre a un certo punto, e a questo punto basta semplicemente rimuovere questa, diciamo questo piccolo tubo all'interno. Quindi andremo di nuovo a schiacciare e a rimuovere il tubicino di plastica, quindi è un'operazione veramente molto semplice. A questo punto abbiamo il nostro sifone vuoto e pronto per essere sciacquato, quindi lavato e riempito. Quindi una piccola parentesi sul lavaggio. Mi raccomando, se lo usi, cioè quando lo usi sciacqualo chiaramente sempre e assicurati sempre che non vai a utilizzare del sapone all'interno. Se dovessi utilizzarlo cerca di sciacquarlo molto bene per tanti motivi. Uno perché potrebbe fare, insomma, potrebbe rilasciare nella soda dei sentori, insomma, sgradevoli di detersivo, che sono una cosa, già il profumo e il gusto sono terribili. In più non è da sottovalutare il discorso della salute. Quindi se ci sono dei residui all'interno di prodotti chimici, insomma, mi raccomando, sciacqualo sempre per bene. Piuttosto magari farlo con del bicarbonato, insomma, cerca di lavarlo per bene. Se vuoi entrare in profondità puoi anche utilizzare gli scopettini quelli là delle bottiglie per capirci. Altra cosa, evita di metterlo in lavastoviglie troppo spesso perché in realtà non ce n'è tanto bisogno. Perché la lavastoviglie è molto aggressiva e il brillantante tende a fargli perdere questa patina lucida. quindi tende un po' a rovinare il metallo e in più fa fatica ad entrare all'interno. Quindi magari una volta ogni tanto fargli fare un giro in lavastoviglie o mettili piuttosto all'interno dell'acqua bollente, anche quella della macchina del caffè, in modo tale da poterla sterilizzare. Ma è più che sufficiente, soprattutto se usi una soda neutra. Veniamo a noi. Quindi una volta che ho smontato tutti i pezzi, vado a lavarli uno per uno e in dotazione avrò queste cose qua. Quindi la parte superiore, questa cannuccia, il tubicino che andrà poi all'interno, questa qui e poi nella scatola ti troverai anche questa. A che cosa serve questa e a che cosa serve questa? In realtà adesso te lo faccio vedere. Quindi ammettiamo che devo ricaricarlo in questo momento, devo assicurarmi, soprattutto se queste ricariche sono in cucina, assicurati di prendere quella per le capsule per la soda, che sono diverse da quelle per la panna. Quindi vado a prendere una boccetta di queste qua. In realtà questa è una marca X, ci sono anche quelle della Easy, ce ne sono di diverse marche e come puoi vedere è una mini bomboletta di CO2, quindi di anidride carbonica. Ammettiamo che siamo pronti per riempirla, magari aiutati con un imbuto. Quindi inserisci un imbuto all'interno, in realtà questa qui è una soda già, il sifone era già pulito, quindi vado semplicemente ad inserire dell'acqua normale. In questo caso io utilizzo un'acqua con un bassissimo contenuto di residuo fisso. E impara anche a leggere sull'etichetta, il residuo fisso deve essere quanto più basso possibile. Come puoi notare nella caraffa l'acqua è fredda, più è fredda l'acqua meglio l'anidride carbonica andrà a essere inglobata, ad omogeneizzarsi all'interno del liquido. Questo è un piccolo trucchetto. Andrò a riempire per tre quarti il sifone, questo è un sifone da un litro, tra l'altro poi ci sono anche quelli più piccoli da mezzo litro, da tre quarti. E andrò, ok, come puoi vedere è riempito per tre quarti. Bisogna lasciargli un po' di spazio affinché l'anidride carbonica possa entrare all'interno. Quindi farò l'operazione inversa a quella che abbiamo fatto nello smontaggio. Andrò a inserire il tubicino all'interno, quindi andrò a, come vedi qui c'è un piccolo gommino, che serve per aderire all'interno. Non andrà più in giù, quindi comunque basta premere leggermente. Andrò a inserire la cannuccia all'interno e come puoi vedere la parte in silicone andrà aderire sulla superficie. Assicurati, un'altra piccola cosa, che all'interno dell'acqua non ci siano piccole particelle o altro, perché se c'è delle, diciamo, delle residui che possa essere qualche pezzettino di erba o qualche pezzettino di, non lo so, di qualsiasi cosa, tenderà a fare da tappo perché il buchetto è molto piccolo e potrebbe fare tipo un'esplosione, diciamo così, quindi attenzione, un'esplosione tra virgolette, quindi ti spara nel bicchiere e è successo a me, quindi te lo dico per quello. Quindi andrò a avvitare la parte superiore, in questo caso mi raccomando avvitala per bene, ok? Dopodiché andrò a inserire la boccettina della ricarica di CO2, mi raccomando, con la parte tonda verso il fondo, così. In questo caso perché questa parte qui deve andare praticamente a baciarsi con il buchetto che c'è qui, quindi diciamo maschio e femmina, andrò a questo punto ad avvitare, non ti preoccupare più di tanto, vai semplicemente ad avvitare, a un certo punto vedrai che inizia ad andare duro. Quando a questo punto qui cerca di dare un'avvitata un po' più forte, un po' più diciamo un po' più veloce e sentirai un suono che farà così, 3, 2, 1, ok? Fatto! Quindi andrò semplicemente a svitare la bomboletta. Questa bomboletta qui è vuota, quindi c'è il buchetto, ormai ha fatto il suo lavoro. La CO2 è entrata tutta all'interno, quindi questo qui non mi serve più. Questo qui non lo riavvito perché diciamo che essendo molto lungo è un po' scomodo nella lavorazione, quindi quando siamo al lavoro. Quindi un po' per comodità e un po' anche a livello estetico l'azienda produttrice fornisce questo tappino che serve per appunto coprire questa parte qui che insomma sarebbe un po' bruttina da vedere. Ed eccoci qua, abbiamo il nostro sifone per la soda. Andiamo a questo punto a conservare, mi raccomando, in un cassetto ben ordinate sia questo qui, sia questo qui e sia le boccette del gas. Questo mi raccomando, tenete sempre a portata di mano e ben conservate perché se perdi uno di questi pezzi qui rischia di avere dei problemi. A questo punto andremo ad agitare per far sì che la, diciamo la soda sia ben frizzante e siamo pronti per fare un nostro test. Andrò semplicemente a prendere un bicchiere ed eccoci qua. Addirittura per chi vuole o per chi volesse una soda molto frizzante puoi scegliere di inserire due boccette di queste qui di gas, non è un problema però te lo sconsiglio insomma questo va più che bene. Chiaramente una volta che hai fatto questo tipo di lavoro stessa cosa ricominci da cavo quindi una volta che è finita sviti, lavi, rimonti quindi inserisci l'acqua ben fredda e bomboletta del gas ed è fatto. Una volta preparata la soda io ti consiglio di conservarla in frigo. Ah quasi dimenticavo, farò un video sulla soda però in questo caso un video su come fare la soda aromatizzata quindi mi raccomando non perdere, anche perché non so se hai notato la gravata ma è proprio fatta col sifone. Se ti è piaciuto questo video mi raccomando un bel pollice all'insù, commenta e condividi con i tuoi amici in questo modo mi darai la possibilità di continuare a crescere e a darti maggiore contenuto gratuito. Approfitta dei commenti per scrivermi se c'è magari qualche argomento che vorresti approfondire mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella in questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche un episodio. Non resta altro che dirci ci vediamo presto, anzi con questo fai dei gavettoni prestissimo, alla prossima, ciao! 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 Ciao!